Giusto è il tempo di festeggiare l'importante successo di domenica contro il Palermo, che subito la Turris scende in campo di nuovo a Vigori nel turno intrasettimanale di stasera contro il Campo Basso. I Coralini, intenzionati a dare continuità al successo sui siciliani, scenderanno in campo con una formazione che non dovrebbe discostarsi molto da quella dell'ultimo impegno casalingo. Mister Caneo infatti sembra orientato a confermare la squadra che sta incantando la tifoseria in questo eccellente inizio di stagione. L'unica novità infatti dovrebbe essere l'impiego di Dinunzio, che ha scontato il turno di squalifica rimediato dopo l'espulsione di Bari e che quindi riprenderà il suo posto in difesa. Di fronte ci sarà un campo basso reddice da un K.O. interno e da un campionato finora molto altalenante. Per la Turris quindi una buona occasione per mantenersi in scia delle prime e provare ad allungare sulle dirette inseguitrici. Fischio di inizio in programma alle ore 20.